Domani festa del papà, perché questa manifestazione ad arco? In che modo i papà non sono tutelati? Dunque, parliamo oggi di papà proprio perché domani è la festa del papà. In realtà la negazione del principio della bigenitorialità, che è un principio stabilito dalla legge, vale a volte anche per le madri e noi avremo una testimonianza di una madre che vede negato questo diritto. Quindi la bigenitorialità mette al centro prevalente l'interesse del minore, in caso di separazioni dei genitori, che deve avere il diritto di vedere entrambi i genitori partecipare alla propria educazione, alla propria crescita, alla propria cura. Purtroppo questo bel principio stabilito dalla legge, nelle aule dei tribunali, dalla prassi, viene spesso interpretato in senso limitativo per i padri. La cosiddetta preferenza della madre fa sì che nel 94% dei casi il collocamento dei minori sia sempre presso il domicilio della madre. Quindi noi non vogliamo fare ovviamente battaglie contro i pari diritti che devono essere riconosciuti nel bene del minore che deve essere messo al centro. Fatto sta che oggi la figura del padre subisce una disuguaglianza di fatto. Si potranno fare delle iniziative, delle modifiche a queste normative o la normativa c'è già ma non viene in qualche modo rispettata? Esattamente, bisogna fare un passaggio culturale e alcuni tribunali su questo sono molto avanti. Il tribunale di Milano sta riconoscendo molto questo ruolo, dando il collocamento in molte situazioni ai padri. Il collocamento prevalente, che non significa negare il diritto di nessuno, anzi, ma il diritto a vivere i stessi spazi, i stessi momenti per il bene, per la crescita e l'equilibrio del minore. Quello che come Movimento 5 Stelle stiamo facendo è di introdurre il registro della bigenitorialità nei comuni, è stato già accettato nel comune di Trento, lo porteremo anche nel comune di Arco, che garantisce e rafforza questo diritto nel bene esclusivo del minore. In questa manifestazione per la tutela del papà, cosa ci fa una mamma? Allora, sono qui oggi per proteggere il diritto del minore ad avere un padre e una madre. Un bambino non deve essere costretto a scegliere se scegliere un padre o scegliere una madre. Un bambino non deve essere spaccato e diviso in due. Nel mio caso mia figlia non è stata riportata a casa dopo un weekend, nell'ottobre del 2015. E mia figlia mi rifiuta di vedermi attualmente. Questo rifiuto, ovviamente, analizzato attraverso i periti e i tecnici del tribunale, è emerso che la bambina è manipolata dal padre. Si parla di alienazione parentale. L'alienazione parentale che cos'è? Un bambino in qualche maniera viene psicologicamente indotto a rifiutare un genitore. Spesso questo fenomeno accade sui papà, dove la mamma è il principale collocatario in fase di separazione e divorzio e quindi la mamma ha tutto il tempo, in questo caso, di alienare un figlio. In tutto questo chi ci rimette sempre il bambino? Qui oggi noi siamo qua sempre a tutela dei minori per il diritto ad avere un padre o una madre, perché nessun bambino deve crescere senza un padre o una madre. Sono danni sul futuro stesso del bambino e questa cosa non deve assolutamente accadere. Quindi chiediamo che i tribunali, lo Stato, assolutamente possano proteggere il bambino e anche con processi brevi indagare immediatamente dove è la verità e garantire l'accesso al padre e la madre. Io non vedo mia figlia dall'ottobre 2015 e questo ovviamente sta solo creando dei grandi danni, dei grossi danni a mia figlia stessa. Sta crescendo come una figlia senza una madre e ovviamente tutta la psicologia a supporto di questo dice che un bambino per crescere sano ha bisogno della figura materna e paterna.